Si terrà giovedì nella sala consigliare del municipio di Figline la terza seduta della prima commissione consigliare incaricata di redigere il nuovo statuto comunale da approvare in consiglio entro alla fine di maggio. Lo statuto è il documento che definisce organi, compiti e modalità di funzionamento dell'ente e vanta già un importante lavoro preliminare condotto in occasione del percorso partecipativo verso la fusione di Figline incisa. Dal settembre 2012, infatti, un gruppo di cittadini è stato affiancato nella stesura delle linee guida prima dall'Università di Firenze e poi da alcuni membri dei consigli comunali di Figline e d'Incisa. Adesso tutto il lavoro è tornato nelle mani delle istituzioni. La prima commissione, presieduta da Francesco Sottili del PD e composta da Laura Orpelli, Sandro Sarri, PD, Lorenzo Naimi, Movimento 5 Stelle e Simone Lombardi, idea comune, lavorerà alla stesura definitiva dello statuto sotto la supervisione del segretario comunale Fabio Maria Sacca. La commissione, alle cui sedute possono assistere tutti i cittadini, si riunisce ogni giovedì alle 17.30 presso il municipio di Figline. Entro il 24 aprile sarà possibile inviare a statuto chiocciolacomunefiv.it proposte osservazioni che la commissione valuterà in vista dell'approvazione in consiglio comunale prevista appunto per la fine di maggio. All'indirizzo internet www.comunefiv.it-statuto si possono inoltre trovare tutta la documentazione, i vecchi statuti e verbali delle sedute della commissione.